Io sono Tiziana Liotto, sono una orientatrice e mi occupo di curare l'azione relativa all'inclusione lavorativa. Io mi chiamo Usman, sono Gambiano, io sono un orientatore, un mediatore linguistico-culturale. Collaboro con altri orientatori, altri colleghi. Noi favoriamo delle esperienze di orientamento e di tirocinio finalizzate a comprendere come funziona il mercato del lavoro in Italia, quindi delle esperienze che accompagnino il loro percorso di autonomia, il loro diventare adulti. Come a Raga 2 oggi siamo venuti qua in questa scuola Madre Teresa di Calcutta. Ho visto l'interesse dei ragazzi perché è importante capire bene che cos'è il tirocinio, perché la maggior parte pensano che è un lavoro, invece non è un lavoro. Raccoglieremo intanto le adesioni delle ragazze che intendono partecipare a questi percorsi e li incontreremo poi per fare dei percorsi di orientamento finalizzati anche a comprendere quelli che sono i loro interessi, i loro obiettivi, i loro desideri, affinché l'esperienza di tirocinio possa svolgersi poi effettivamente nell'ambito che è più vicino alle loro competenze e ai loro interessi. Poi svolgeremo altri percorsi di accompagnamento in cui li supporteremo nella redazione del CV, nella redazione della lettera di presentazione, quindi un percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo. Grazie per la visione!